che cosa fa un uomo a che serve la vita a cura di vb cerchio marina attraverso attilio m voce della quiete punto vagliano chiocciola gmail.com soggetto che cosa fa un uomo quando a poco a poco maturando comprende che i fatti che gli accadono molte volte lo imprigionano e che ciò che gli succede spesso lo stringe a tal punto da non riconoscere che niente lo può stringere veramente se guarda alla sua profondità che può succedere a quell'uomo quando a poco a poco maturando gli si svela un altro mondo un mondo di forze che non sospettava esistessero un mondo di forze che pensava di aver già sconfitto un mondo di forze che pensava di aver già placato che succede a quest'uomo quando maturando si apre alla possibilità di riprovare forze che egli stesso ha sconfessato di riprovare sensazioni che lui stesso ha rifiutato di riprovare momenti di totale avvinghiamento dentro un'oscurità succede quella che molti hanno chiamato la notte dell'animo la notte dell'animo presuppone che quell'uomo si sia messo in cammino che quell'uomo si sia appropriato in parte di una conoscenza su se stesso che lo rende più aperto a ciò che gli succede più capace di indagare su ciò che gli succede ma nel contempo ancora identificato spesso in ciò che gli succede ed è lì che sboccia la notte dell'animo in questo attaccamento a quanto gli succede in questo attaccamento ai suoi pensieri alle sue emozioni al suo operare non ciò che gli succede in questo attaccamento ai suoi pensieri